Diavoli che non siete altro! Sabato 9 maggio per voi sarà una giornata dannatamente divertente! Al parco dei renai di Signa torna all'Inferno! L'unica corsa dove gli ostacoli ti porteranno al settimo cielo! Iscrivetevi subito su infernorun.it Meglio soli o male accompagnati? Chi lo sa! Inferno! Sabato 9 maggio al parco dei renai di Signa! Ah e comportatevi bene! Siete all'inferno, non ve lo dimenticate!